Una star di TikTok ha galvanizzato i suoi seguaci, dopo aver rivelato la sua età che ha scioccato molti internauti, i quali se da una parte l'hanno elogiata, dall'altra non si sono astenuti dal lanciarle delle severe critiche, accompagnate anche da insulti. Attorno all'età di Keiko Guest, nota TikToker soprattutto in America si sono aperte le discussioni dopo che la donna originaria di Atlanta ha rivelato di avere 72 anni, anche se il suo fisico tonico e longilineo fa pensare che abbia molti anni in meno, così come il suo carattere solare che la porta ad essere un vulcano. La donna infatti si è fatta conoscere sul web condividendo dei video in cui si allena e dà sfoggio alle sue abilità da ballerina. Alla notorietà conquistata sul social cinese si sono accompagnati i commenti insistenti degli internauti che più volte hanno espresso giudizi taglienti contro di lei. Ma le discussioni più calde sono esplose in rete dopo che si è scoperta l'età di Keiko Guest. La TikToker ha svelato senza remore la sua età sentenziando, ho 72 anni ma ne dimostro 20. La nota TikToker risponde alle critiche social sulla sua età non tutti però hanno concordato con quanto detto dalla star del web, che vanta un nutrito seguito di followers non solo su TikTok ma anche su Instagram, ed infatti non sono mancate delle cungenti stilettate da parte di chi si è soffermato dall'attaccarla per via della sua età. A chi ha tessuto le lodi dell'influencer per le sue doti da ballerina, ma anche per le sue pubblicazioni in cui si cimenta con ginnastica artistica e pose ammiccanti si sono contrapposti commenti negativi. Ma il suo entusiasmo non ha convinto tutti in rete, visto che qualcuno ha firmato delle pungenti critiche a cui hanno fatto eco gli ammonimenti degli odiatori social, i quali le hanno detto senza giri di parole che è troppo vecchia per fare quello che fa sui social. Altri ancora hanno messo sotto accusa il suo esibizionismo, sostenendo che il suo modo di vestire come anche le attività a cui si dedica non sono consone alla sua età, invitandola a non atteggiarsi troppo. Leggi anche, Antonella Fiordelisi, botta e risposta tra Alex Nucetelli, Totti e i legali della Vippona, le nuove dichiarazioni dopo le querele malgrado le critiche, Cheiko non ha perso il sorriso, tornando sui social a mostrarsi alle prese con allenamenti e scatti sinuosi, una dimostrazione della sua sicurezza da donna matura che ha a cuore la cura del corpo e che con la sua positività vuole essere un modello. Non ero a conoscenza di quanto odio ci fosse verso gli anziani fin quando non ho aperto TikTok, ho ricevuto sin da subito critiche, spesso anche crudeli, mi concentro su me stessa e lo faccio principalmente per la mia salute. Rimanere in forma è sempre stata la mia priorità e continuerà ad esserlo, il commento di Cheiko con cui ha replicato agli odiatori del web, che non hanno spento la sua solarità. Leggi anche, Elodie, avete mai visto la cantante senza trucco? Non crederete ai vostri occhi.